I suoi vigneti sono ubicati lungo la fascia pedemontana e montana che comprende 30 comuni. Questi luoghi sono l'espressione di una tradizione che ha profonde radici legate alla viticoltura, testimoniate ancora oggi dal prezioso lavoro dell'uomo. Piacevoli escursioni conducono a borghi medievali, musei, antiche chiese e al monumento simbolo della provincia di Torino, il Forte di Fenestrelle. Tra i vini a denominazione, il Pinerolese prevede le tipologie Rosso, Rosato, Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Daudenri e Ramie. Il Daudenri è uno dei vini più caratteristici, di probabili origini francesi, ma potrebbe anche essere autoctono del Pinerolese. È chiamato anche Gros D'Henri. Il vitigno è a bacca nera e il vino che ne deriva è piuttosto leggero, di corpo moderato e gradevoli. Altro vino simbolo del territorio è il Ramie, prodotto nelle ripide pendici montane di Pomaretto e Perosa Argentina, con uve Avanà, Avarengo e Neretto. Il tessuto economico è costituito da medie aziende e da realtà di spicco, come la Cantina Sociale di Bricherasio, la più importante in termini di capienza produttiva di tutto il territorio provinciale.